ciao a tutti molti di voi mi chiedono come poter disfare un pezzettino di lavorazione se si è fatto un errore è una cosa molto semplice basta tenere il filo sulla mano di destra io me lo avvolgo così fra le due dita per riuscire ad avere una tensione corretta e avendo la tensione corretta apro vedete la maglia sottostante in modo da riuscire ad infilare il ferro di sinistra quindi infilo il ferro di sinistra al davanti e disfo è semplicissimo non c'è non c'è nulla di che non si possono perdere le maglie perché io disfo e poi tiro e quindi la maglia è non si può perdere non può cadere ecco qui questo è tutto è una cosa veramente semplicissima poi posso riprendere la lavorazione normalmente sistemo quello che ho da sistemare e riprendo la lavorazione io spero che questo video vi sia stato utile iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella così non vi perderete i prossimi video che pubblico e alla prossima ciao